Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Abbiamo cambiato location senza nessun motivo in particolare, semplicemente avevo voglia di stare qua. Parleremo oggi di Batwoman, nuova serie televisiva del network CW, di cui vi ho parlato anche nell'altro video in cui, diciamo, pronosticavo un attimino Crisi sulle Terre Infinite, che è già apparsa nella reverse come ospite, diciamo, come guest star nell'episodio Elseworld, che ci ha appunto introdotto la vigilante, l'eroina mascherata. L'episodio Elseworld è servito proprio a vedere la reazione degli spettatori a questo personaggio, a questa sua story, per capire se era il caso di lanciare una serie tutta sua. Così è stato, perché appunto ha avuto un riscontro molto positivo e dal 6 ottobre negli Stati Uniti è uscita la prima puntata di Batwoman. Nel frattempo, mentre sto girando, sono uscite altre due puntate, io le ho viste in lingua originale per voi e vorrei appunto parlare un po', introdurre questo nuovo telefilm, dato che Arrow è la sua ottava e ultima stagione, Flash è la sesta stagione, non mi sembra il caso di introdurvi questi personaggi, che se seguite le serie della CW conoscerete meglio di me, però appunto, dato che Batwoman è nuova, ne parliamo, se volete, anche più di una volta. Prima di continuare però vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche, o se non volete vi dico già che i video escono al martedì e al venerdì, di condividere il video con tutte le persone che vi stanno simpatiche o antipatiche e vi ricordo anche di commentare. È una cosa importante perché io so che ci siete, soprattutto se commentate con un hashtag, io magari vi saluto nel prossimo video, alla fine del prossimo video vi saluto. Vi ricordo anche che siamo vicini al Luca Comics, io sarò presente il giovedì e il venerdì, il venerdì anche in cosplay, farò un video per mostrarvi il cosplay in cui sarò presente, così magari mi vedete e mi salutate. Se commentate con l'hashtag Luca Comics, magari nel prossimo video, oltre a salutarvi, vi dirò anche che ci si può trovare da qualche parte in uno di quei giorni, magari ci si fa un selfie assieme. Basta con le public relations, parliamo di Batwoman. Allora, io ho avuto il piacere di conoscere questo personaggio di Batwoman, questa incarnazione di Batwoman, perché Batwoman ha due incarnazioni, la prima era del 56 addirittura, mentre l'incarnazione attuale, quella di Kate Kane, è molto recente, del 2006. Io l'ho scoperta nella saga The New 52, in Batman ovviamente, o forse addirittura era Rebirth, comunque in una minissaga in cui Batman collaborava con tutta la Batfamiglia, tra cui anche Kate Kane, e si è proprio lì, si è proprio capito come Kate Kane, la Batwoman, non sia una spalla di Batman, ma sia proprio la versione femminile, diciamo, quindi non ha nulla di meno di Batman, soprattutto come addestramento, perché è anche l'unica della Batfamiglia che ha avuto un vero e proprio addestramento militare. È stata nell'esercito, nel telefilm vediamo che è stata all'accademia di polizia, comunque ha seguito un allenamento nelle forze speciali. Suo padre comanda delle forze speciali, quindi è a capo di una task force con cui collabora, nel telefilm pare che collabori, nel fumetto ha avuto anche delle divergenze con suo padre e con questa task force, al punto che sono stati anche nemici per un periodo. Il padre ignora che la figlia sia Batwoman. Mi piace molto come, sia nel fumetto, che ho letto io, sia in questa serie della CW, banalmente, il personaggio, che è interpretato dall'attrice Ruby Rose, ha i capelli corti. Anche nei fumetti, Kate Kane ha i capelli rossi. La chioma rossa, rosso fuoco, che vediamo quando indossa il costume di Batwoman, è una parrucca, che serve appunto anche un po' per depistare. Uno pensa che sotto quella maschera ci sia una persona con i capelli rossi, invece ha i capelli molto corti. Nel fumetto ha i capelli carota, color carota, corti, mentre qui sono i classici capelli di Ruby Rose, che se non la conoscete dal nome, la conoscerete sicuramente come una dei personaggi più carismatici di Orange is the New Black. Magari vi metto qui nell'angolino una foto, dato che è una gnocca da paura. Però non vi innamorate perché l'attrice è dichiaratamente omosessuale ed è molto interessante la scelta di questa attrice perché anche il personaggio di Kate Kane nel fumetto è omosessuale. Lo dico perché, mentre mi documentavo un attimo per fare questo video, ho già letto delle castronerie assurde. Ho letto che per questo telefilm hanno cambiato l'identità sessuale di Batwoman. No, è così anche nei fumetti, cioè nulla di stravolgente. L'unica cosa un pochino stravolgente è che hanno scelto un personaggio realmente gay per interpretare un personaggio gay. Era anche ora, voglio dire. Lasciando perdere che nella sinossi ufficiale della serie tv su Batwoman, sul sito della CW, descrivano Batwoman, adesso non è che lo sto decontestualizzando, vi dico solo un pezzettino, però fondamentalmente. Kate Kane vola sulle strade di Gotham nei panni di Batwoman, donna lesbica molto esperta nel combattimento da strada, pronta a sopprimere il rigurgito criminale della città in crisi. Ma scusate, se non era lesbica, avreste scritto Kate Kane vola sulle strade di Gotham nei panni di Batwoman, donna etero molto esperta? Ma perché? Cioè, allora, io non voglio pensare male, anche se da un certo punto di vista in America sono molto più bigotti che qua in Italia, da un altro punto di vista sono molto più aperti, quindi non riesco bene mai a inquadrare cosa vogliono dire in quello che dicono, però penso che se l'abbiano sottolineato nel plot della serie probabilmente ci sono delle tematiche LGBTQ, eccetera, eccetera. Quindi, boh, magari l'hanno sottolineato per quello. Poi, come tutti sappiamo, le serie della CW sono molto melense, c'è molta love story sotto. Batwoman, il telefilm, non fa eccezione, perché anche qua c'è un trascorso tra Kate Kane e una dei comprimari di sesso femminile, appunto, è una sua ex che Leia ama ancora, si vede da subito, quindi non vi sto spoilerando nulla, e penso che questa sarà, diciamo, la linea amorosa della serie, quindi probabilmente tratteranno questa love story, però non mi sembra ci siano delle battaglie per i diritti delle persone, delle ragazze lesbiche, quindi, vabbè, non c'era bisogno, secondo me, di sottolinearlo, è un pochino fastidioso, però, vabbè, sono un maschio etero, quindi penso che se dia fastidio a me può dare molto più fastidio a una persona omosessuale, però magari mi sbaglio, fatemelo sapere. Ma parliamo proprio del telefilm. Allora, Batwoman, Kate Kane, sta in una Gotham City dove Batman e Bruce Wayne, guarda caso, sono spariti da tre anni, questo già lo dice nella puntata di Hell's World, qui appunto lo riconferma, come tutti i telefilm della CW, c'è questo voiceover, questo protagonista in prima persona che racconta di sé, cosa che per un personaggio figo, cupo come Batwoman, mi sta un po' sulle palle, questo voiceover, però l'hanno un pochino giustificato perché il voiceover di sé stessa, diciamo, è lei che, è Kate Kane, è Batwoman, che sta scrivendo un diario allo scomparso cugino Bruce Wayne, quindi perché appunto se gli succede qualcosa in battaglia gli vuole tener conto di quello che è successo in sua assenza, gli vuole spiegare perché ha preso il manto di Batwoman. Quindi dal momento che lo hanno giustificato mi dà un po' meno fastidio, però c'è un po' questa cosa che tengono in tutte le serie della CW che inizia a diventare un filino ripetitiva. Kate Kane non sa che Bruce Wayne è Batman, anzi ha anche avuto una brutta esperienza da bambina con Batman e quindi non ama assolutamente l'uomo pipistrello, però appunto nella prima puntata, per forza per entrare nel vivo della serie, scopre che il suo caro cugino che manca da Gotham da diversi anni è anche il vigilante leggendario della città e inizialmente decide di prendere i panni del pipistrello proprio perché in Gotham City l'assenza del pipistrello ha generato una nuova ondata di crimine. Mi piace molto come non cambi subito il suo costume, non lo modifichi subito dal costume di Batman al costume di Batwoman. Ci vogliono ben tre episodi perché ci vogliono ben tre episodi perché Batwoman abbia il suo costume iconico che abbiamo visto in Elseworld. Quindi presumibilmente posso supporre che Elseworld sia ambientato dopo la puntata 3 della prima stagione di Batwoman, però è anche vero che verso la puntata 8 ci sarà crisi sulle terre infinite, quindi vabbè prendetele con le pinze queste cose. Fatto sta che appunto Batwoman ci vogliono tre episodi perché indossi il costume con la parrucca rossa e prima di questa trasformazione appunto indossa proprio il costume di Batman come è anche successo a Batgirl in Batman The Animated Series. Le due eroine indossano il manto del Cavaliere Oscuro proprio per rappresentarlo e far impaurire i criminali e per dare speranza ai cittadini onesti che credono in Batman. Quando appunto poi Batwoman vede che questa speranza li sta illudendo un po' troppo del ritorno del Cavaliere Oscuro e sta anche facendo incazzare parecchie persone che non vedevano l'ora che tornasse Batman per vendicarsi di lui per qualche ragione, a quel punto decide di prendere una strada diversa e rivendicare l'identità di Batwoman. Quindi un bel simbolo rosso, un bel pipistrello rosso sul petto, parrucca rossa e l'interno del mantello rosso. Tra l'altro non è un rosso totale ma è un rosso gradiente, ok, graduale e che lo fa sembrare quasi delle vere ali di pipistrello. Abbastanza... Vi metto qua magari una foto nel riquadro in modo che vedete l'effetto che dà. È un effetto molto bello. L'impatto che ho avuto io su queste prime tre puntate se avete notato non vi sto spoilerando nulla l'impatto che ho avuto io su queste prime tre puntate è stato molto positivo. Poi bisogna vedere, certo che se fanno anche qui otto stagioni trite e ritrite chissà dove si andrà a finire però ho avuto un impatto molto positivo. Faccio un piccolo spoiler quindi se non volete sentire proprio nulla nulla vi faccio aspettare tre secondi quindi schippate ci vediamo al prossimo video oppure se siete curiosi comunque continuate ad ascoltarmi. Tre Il primo villain della prima puntata che pare anche che sarà il villain della prima stagione intera è una certa Alice una certa Alice che francamente appare subito appare nel primo quarto d'ora dell'episodio del primo episodio e francamente e parla anche lei in rima è un chiaro riferimento al cappellaio matto di Batman non quello di Alice del Presidente delle Meraviglie anche se ne prende spunto è un chiaro riferimento al cappellaio matto e francamente il cappellaio matto che non si è mai visto al cinema si è visto nei videogiochi si è visto nei cartoni ma si è visto di recente nella serie tv Gotham e francamente se da un certo punto di vista è stato bello vedere questo personaggio finalmente trasposto in carne e ossa nella serie tv Gotham me lo hanno fatto detestare perché è stato il main villain della prima parte della terza stagione ha dominato totalmente la stagione in modo molto diverso da come hanno gestito i villain nelle prime due stagioni quindi questo davvero a un certo punto ho detto basta cappellaio matto mi sta sulle palle parla pura sempre il rima non lo voglio più vedere è stato davvero pesante forse quarta stagione scusate quarta stagione di Gotham non terza e quindi rivedere nella prima puntata di Batwoman un nemico così fastidioso anche se chiaramente una controparte femminile qua vediamo come la Alice del paese delle meraviglie del cappellaio matto di Batman non sia una vittima ma sia proprio come se fosse una controparte femminile del cappellaio matto diciamo mi sono un attimino cadute le palle perché ho detto oddio si comincia così dove cacchio si andrà a finire mi ha dato anche molto fastidio che era una versione femminile del cappellaio matto cioè non è che perché c'è Batwoman allora ci deve essere Joker Woman ci deve essere Pinguino Woman ci deve essere Catman spero non facciano sta cagata spero che si vedano i nemici principali sembra quasi che sia ambientato in un mondo dove Batman sia comunque agli esordi perché nessuno ha parlato di Batgirl nessuno quando ha paragonato Batwoman nessuno ha parlato di Robin nessuno ha parlato di Joker si è visto Tommy Elliot che non è ancora Hush è solo Tommy Elliot è comunque già uno stronzo ve lo dico quindi può essere una Gotham dove i veri nemici di Batman non si sono ancora sviluppati e quindi questo potrebbe essere la scusa narrativa per cui non non li vedremo combattere con Batwoman perché dubito che vogliano sfornare un ennesimo Joker televisivo anche se quello di Gotham non era un Joker era un proto Joker però abbiamo già avuto tanti Joker cinematografici in questi anni secondo me non vogliono cagare troppo fuori dal vaso che è lo stesso motivo per cui il telefilm è incentrato su Batwoman e non su Batman che è totalmente assente però potrebbero anche fare come è successo in Supergirl dove nella prima stagione Superman era praticamente assente perché era in un'altra città e poi nella seconda diventa diciamo una guest star del telefilm potrebbero fare anche in questo modo fatemi sapere voi preferireste vedere un ennesimo Batman vi ricordo che in televisione ci sarà anche Titan se uscirà la seconda stagione dove abbiamo Robin che diventerà Nightwing dove c'è già Jason Todd che è il secondo Robin quindi probabilmente ci sarà anche lì una comparsata di Batman vi piacerebbe vedere anche un altro ennesimo Batman anche qui dentro anche in Batwoman o preferite che non se ne parli che continui il telefilm indipendentemente e soprattutto vorreste vedere i nemici classici di Batman scontrarsi con Batwoman se proprio non quelli più forti carismaticamente come il Joker magari quelli un po' mezze seghine si è già visto lo psycho pirata nel nel crossover Elseworld anche perché dovrebbe avere un ruolo importante in crisi sulle terre infinite quindi vorreste che Batwoman si scontrasse con questi nemici fatemelo sapere nel video prima di lasciarci saluto Patrick Tarquini che ha commentato il video precedente saluto anche il grande sfumatoso con cui spesso collaboro che vi consiglio di seguire saluto per ora in borghese Marco Norino Marchetto appena posso ti farò il saluto in versione nudist beach come richiesto io sempre con l'inchina e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti